Nasce nel nome di Pino Daniele Ojo, il centro per le attività giovanili di Palma Campania. Per l'inaugurazione, ben due giorni, sono stati dedicati alla figura del grande artista napoletano nel segno della legalità. Il nome Ojo nasce da un'intuizione dell'architetto Franco Lancio, che ha utilizzato parte del testo di Ego The Blues per rendere omaggio al cantautore napoletano. Dopo la sua scomparsa a gennaio, Pino Daniele è diventato quasi un nome tutelare per le associazioni giovanili di Palma Campania, insieme con il tema della legalità. Dopo il taglio del nastro alla presenza del fratello di Pino, Carmine Daniele, nella mattinata di venerdì si è tenuto il convegno da Fortapascia a Gomorra. Sabato spazio è stato dato alle scuole e accompagnate in visita al centro, mentre a concludere la due giorni, nel pomeriggio e nella serata dello stesso giorno, un convegno dedicato alle liriche che parlano di giustizia sociale, con il rapper Lucariello, che si è poi esibito insieme al Bombo Ormanni Quartet. Ascoltiamo il sindaco di Palma Campania, Vincenzo Carbone, e il presidente del Consiglio Comunale, Michela Manzi. Una giornata felicissima per tutta Palma Campania, e come dicevo nei miei saluti per la comunità giovanile di Palma Campania, per le associazioni e per tutti i cittadini di Palma Campania. Apriamo finalmente questo centro di aggregazione giovanile, che c'è stato finanziato attraverso un PON del Ministero degli Interni, e lo mettiamo a disposizione dei giovani, sicuramente. Saranno i giovani, in particolare sarà il forum dei giovani a gestire questo centro, con un comitato di gestione fatto, composto da membri delle associazioni del territorio e da membri delle scuole. Un gruppo che dovrebbe essere emanazione dell'amministrazione, anzi non dovrebbe essere, è emanazione dell'amministrazione, ed è il forum dei giovani. Il presidente del forum dei giovani sarà il presidente di questa leadership, di questo direttivo del centro polifunzionale, con la partecipazione e collaborazione di tutte le associazioni che intervengono.